La rete è importante, l'ha detto anche nel suo intervento. Molte volte bypassa anche stereotipi, luoghi comuni e avvicina anche alla realtà dei fatti. Lei poi è diventato sindaco anche grazie a questo movimento popolare che l'ha portato a Palazzo San Giacomo contro ogni aspettativa. Insomma è bene che si ribadisca sempre. La rete è tendenzialmente democratica, sicuramente, molto orizzontale, ognuno può dire la sua. Poi bisogna stare attenti anche lì perché qualche volta c'è qualcuno che tende anche a esercitare un'eterodirezione anche attraverso i social. La mia esperienza invece insegna che è un grande strumento democratico. Napoli in questo momento è anche tanto conosciuta nel mondo per fatti positivi grazie ai social, grazie alla rete. E anche io da un punto di vista politico ho cercato di coniugare l'esperienza di strada, quindi la politica di vicinanza carnale con la gente e l'interlocuzione attraverso i social, che è un modo democratico e divulgativo di conoscenze, pensiero e anche di confronto e quindi di condecisione insieme alla gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.